Nel quadro degli eventi collaterali della regata velica Brindisi Corfu spazio alla mostra di Gio Cucchiara in punta di matita che sarà visitabile fino al 10 giugno negli spazi del circolo della vela di Brindisi sul lungomare Regina Margherita all'interno della casa del turista. Gio Cucchiara, siciliano, 61enne, per oltre 25 anni ha lavorato nel settore dell'arte come responsabile della logistica e della produzione di libri e multipli d'arte, quale sculture e grafiche per una nota azienda italiana. Il suo lavoro gli ha permesso di entrare in contatto con molti artisti, da Salvatore Fiuma a Concetto Pozzati, da Antonio Nocera a Ugo Nespolo, ma nonostante l'arte sia stata il suo mondo, non ha mai avuto la consapevolezza che un giorno sarebbe diventato lui stesso un artista, arrivandoci in maniera del tutto casuale, da autodidatta. Attraverso lo studio e centinaia di ore di assiduo applicazione, è riuscito a trasformare ed affinare la propria tecnica, trasformando semplici linee e punti in qualcosa di molto più armonioso e più realistico. Il risultato di tanta applicazione lo ha premiato realizzando opere sempre più interessanti nel 2016 e è stato invitato ad esporre in una personale nel prestigioso Palazzo Nervegna di Brindisi. Nello stesso anno ha partecipato al concorso Art Prize presso la riseria di Novara ed è arrivato al secondo posto al 17esimo premio nazionale d'arte città di Novara, svoltosi nel 2017. Per stimolare la creatività e confrontarsi con altre forme artistiche, fra il 2018 e il 2021 ha partecipato ad alcune mostre collettive di artisti provenienti da diverse correnti artistiche nazionali. Gioco ucchiare, è il caso di dire a punta di matita? Sì, infatti, per realizzare queste opere utilizzo solamente le matite, matite di grafite, carboncino, polvere di grafite, polvere di carboncino. E molte ore perché per realizzare queste opere sono necessarie tantissime ore perché ci vuole molta 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 pazienza, centimetro dopo centimetro si cerca di arrivare il più possibile all'iperrealismo perché è la linea di questa tipologia di opere. Ecco, queste opere, qual è il tema dominante di queste opere? Il tema dominante innanzitutto è la bella fotografia. Se io vado incontro verso una bella fotografia, se c'è una bella fotografia che mi piace, immediatamente scatta qualcosa che io la voglio realizzare a matita. E questa è la chiave.